Il terzo settore non può essere il pronto soccorso quando il comune non ha soldi e il mercato non ha convenienza. Bisogna incorporarlo in una logica di attivazione e partecipazione responsabile. Il ministro del lavoro e del welfare arriva a Bitonto per l'inaugurazione del centro di pronta accoglienza nella fondazione Santi Medici. Le linee guida della riforma del terzo settore sono pronte ma l'esame in consiglio dei ministri potrebbe slittare ancora. Perché abbiamo veramente un grande cumulo di provvedimenti da prendere in consiglio dei ministri quindi domani ci sarà la riunione del preconsiglio e quindi valuteremo quali sono gli argomenti che siamo in grado di portare. Don Ciccio a capo della fondazione intorno al cui gravitano 800 persone bisognose tra ragazzi donne e malati di AGS dal palco gli dice grazie per la riforma ma gli ricorda anche il decreto che prevede il pagamento di Imu e Tasi per il no profit. Dobbiamo trovare una modalità coerente che selezioni le situazioni nelle quali ci sono veramente i requisiti e i termini perché è questo tipo di trattamento dal punto di vista fiscale ma la discussione è sempre stata questa le attività commerciali insomma abbiamo un problema che non è semplicissimo ma lo affronteremo con la misura del caso. Il centro di pronta accoglienza realizzato con la collaborazione di Regione nel Cuore, Comune e Arca Casa avrà nove posti letto per i senza tetto e servizi di ascolto, lavanderia, docce e guardaroba.